Sarebbero già sulle sue tracce, potrebbe avere le ore contate, l'assassino del bracciante rumeno trovato cadavere con la testa fracassata nei pressi delle serre delle campagne tra Vittorio e Scoglitti nella zona di Costa Esperia. La vittima è il 38enne Nicolai Raducan, da tutti chiamato Nico Rumeno incensurato. La macabra scoperta è stata fatta domenica mattina intorno alle 7.30 sulla provinciale Scoglitti Gela, all'altezza di Costa Esperia. A lanciare l'allarme è stato un residente che ha subito chiamato il 113. L'uomo era riverso sul ciglio della strada in una pozza di sangue, data la testa fracassata, presubilmente a colpi di sprango o di bastone, forse dopo essere stato ammazzato di botte sferrate con una forza e una crudettà tale da lasciare l'uomo cadavere. Sono subito intervenute le volanti della polizia, che hanno provveduto a coprire il cadavere riverso a terra con un lenzuolo, ispezionando la zona alla ricerca di indizi utili sull'omicidio, al quale pare non abbia assistito nessun testimone. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra i migrati per motivi passionali. La moglie della vittima, lei pure rumena, avrebbe riferito agli inquirenti di aver subito molestie da parte di un gruppo di immigrati, forse tunisini. Poi la presunta violenza sessuale che la donna avrebbe forse subito sotto gli occhi stessi del marito impotente. L'uomo potrebbe aver cercato vendetta, venendo però sorpreso dai suoi stessi aggressori che gli hanno sfondato la testa. Gli inquirenti, che stanno lavorando sulla base del confuso racconto della donna e sugli interrogatori agli amici della coppia di rumeni, alle persone presenti sabato sera nel locale dove i due conogi erano presenti, avrebbero già in mano il bandolo della matassa. Intanto il corpo del rumeno è stato trasferito nell'obitorio del cimitero di Vittoria in attesa dell'autopsia.